In queste settimane l'emergenza Covid ha scatenato parallelamente alla pandemia un altro contracolpo, mettendo in seria difficoltà le famiglie bisognose, le persone fragili, i senza tetto. La Fondazione Cannavaro Ferrara, che ha già predisposto erogazioni liberali a sostegno di strutture sanitarie in emergenza, ha deciso di dare un contributo anche al territorio partenopeo, lanciando un'iniziativa online. Grazie al contributo di tanti amici, da oggi attiva una campagna di aste di memoriabilia calcistici, accompagnata da uno slogan che vuole ribadire questo impegno, Isto vicino a te, uniti per Napoli. Il ricavato della raccolta verrà destinato all'acquisto di beni di prima necessità in collaborazione con alcune associazioni riconosciute sul territorio e già segnalate. Ciro Ferrara, Paolo Cannavaro e Fabio Cannavaro, uniti da esperienze di gioco che li hanno resi protagonisti sui campi di calcio di tutto il mondo, scendono questa volta in campo contro un avversario davvero difficile, ma da battere a tutti i costi. Ragazzi, questa è la maglia che Diego Maradona mi regalò alla fine della partita amichevolo Italia-Argentina nel lontano 1987, giorno del mio debutto. È una maglia a cui io sono legatissimo, però oggi ho deciso di donarla alla Fondazione Cannavaro Ferrara che la metterà all'asta Sociality Stars. Il ricavato andrà a sostenere l'acquisto di beni di prima necessità per le famiglie napoletane. Sono orgoglioso di questo gesto, voglio ringraziare Fabio e Paolo Cannavaro e tutti i ragazzi napoletani o comunque campani che hanno sostenuto questa iniziativa.